Il Signore non va da ciò che copisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Primo Samuele, capitolo 16, versetto 7 I due spiccioli della vedova Osservando quelli che depositavano i loro doni nella cassa delle offerte del Tempio, Gesù notò una vedova senza nessuna risorsa che vi gettava due spiccioli. Paragonato ai doni di chi era ricco, quel dono era insignificante, ma il Signore ha una scala di valutazione diversa dalla nostra. In verità vi dico che questa vedova aveva gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte dell'oro superfluo, ma costei del suo necessario, vi ha gettato tutto ciò che aveva per vivere. Per dare così bisogna aver posta tutta la propria fiducia in Dio. Solo chi pone tutta la sua fiducia in Dio può donare se stesso a Lui con la certezza che egli si prenderà cura di Lui e non gli farà mancanza di niente di tutto ciò che gli necessita. Il Signore si aspetta che poniamo fede in Lui, una fede sincera, vera e incondizionata. Gesù spesso diceva, ti sia fatto secondo la tua fede. Oggi puoi essere oggetto della Sua opera in te a condizione che credi in Lui e ti abbandoni nelle Sue mani. Il Signore si aspetta la sua fiducia in un piano di svagko Impossible Il Signore